Rapinata stamattina intorno alle 9 la filiale della Banca Popolare dell'Adriatico in Viale De Gasperi. Due malviventi si sono portati via circa 20.000 euro. Uno dei due banditi è entrato in banca e al momento opportuno ha avvisato il complice che ha fatto irruzione con passamontagna e pistola giocattolo, intimando al cassiere di consegnargli i soldi. Una volta arraffato il contante, i due sono usciti dileguandosi a quanto pare a piedi. È probabile che da qualche parte, non lontana, avessero un terzo complice che li aspettava a bordo di un'auto. Poco dopo è scattato l'allarme e sul posto sono arrivati agenti del commissariato di San Benedetto e alcune pattuglie dei carabinieri. Gli investigatori hanno avviato subito le indagini, acquisendo alcuni filmati delle telecamere e sentendo le testimonianze degli impiegati. A fare il sopralluogo all'interno della filiale della banca rapinata, anche gli agenti della scientifica della polizia, che hanno cercato di raccogliere quanti più elementi possibili per poter arrivare alla individuazione dei due banditi di cui si sono perse le tracce. È probabile che i malviventi siano rimasti in zona per evitare di incappare nei posti di blocco, che sono stati subito disposti con una operazione a Tenaglia per sbarrare la fuga ai banditi. Secondo indiscrezioni trapelate, la rapina sarebbe stata eseguita con rapidità e professionalità da esperti del ramo. Un colpo studiato nei minimi dettagli, che se da un lato non offre grossissime cifre ai banditi, dall'altro riduce i rischi al minimo e anche in caso di cattura la pistola finta gioca a favore di una pena ridotta, rispetto al caso in cui l'arma risulta severa. Accorgimenti da banditi esperti che spesso fanno la differenza. Le indagini sono condotte dal commissariato di San Benedetto, i cui agenti, coordinati dal dirigente Marco Fischetto, sono al lavoro per cercare di trovare una pista che possa condurli alla identificazione dei due banditi.